amici amiche carissime siamo siamo giunti con l'aiuto del signore alla diciassettesima puntata di questo ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo che la volta scorsa come ricordavo ha conosciuto una puntata diciamo di disvolta perché siamo passati diciamo dalla parte come dire ricognitiva quindi del cercare di capire come stiamo messi oggi sulla base della nostra storia sulla base del nostro presente ricevendo anche dei criteri dei parametri per capire un pochino quello che accade dentro noi stessi e quindi per avere discernimento adesso inizia diciamo la parte costruttiva ed inizia dalla proposizione evidentemente quindi dalla proposta dalla presentazione dall'industrazione se vogliamo di quello che noi siamo la volta scorsa anzitutto agli occhi di dio e la puntata precedente è assolutamente fondante fondativa e importantissima perché la percezione positiva di noi stessi e la scoperta del nostro vero se qualcuno lo chiama io lo chiama qualcun altro non fa niente insomma che non può non passare attraverso tutto questo e noi non possiamo e non dobbiamo e vorrei anche aggiungere non vogliamo permetterci di crogiolarci in una visione negativa decadente deprimente distruttiva di noi stessi e il passaggio fondamentale da comprendere che tutto ciò che ci portiamo dietro distorto e potrebbe anche essere tanto non poco non si tratta qui di di farsi illusione o di fare finta che il mare non ci sia né che non ce lo portiamo dietro né che non l'abbiamo fatto non è questo ma dobbiamo acquisire un concetto fondamentale se non vorrei fare il filosofo ma fondamentalmente il male non ci appartiene ci siamo mai chiesti perché come dice la bellissima preghiera ocaristica numero 4 e come la ha sempre insegnato no come mai il signore ha condiviso in tutto con noi eccetto il peccato qualcuno potrebbe dire è ma se non ha conosciuto il peccato che noi conosciamo che uomo è che uomo è uno che non è un peccatore è veramente un uomo sto provocando evidentemente no che rispondiamo adesso non cominciamo a dire no non posso dire così perché se no cosa pensiamo noi cioè il peccato fa parte della nostra natura il male ha qualcosa a che fare con noi o è una realtà che si è giusta apposta è una sorta di di parassita abbiamo visto le zecche che 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 si attaccano agli animali quelle gli succhiano il sangue se le hanno appiccicate non se non se riescano a togliere da solo gli animali dobbiamo aiutarli noi con qualche trattamento se non le zecche non se le tolgono di di dosso e noi dobbiamo percepire tutto il male che può esserci in noi sia come male ricevuto sia come male commesso sia come male che in qualche modo ci ci ritroviamo difetti modi di essere modi di fare comunque qualche cosa che non ci appartiene purtroppo ce ne dobbiamo farci conti e attenzione noi lo facciamo nostro quando gli diamo la libera e volontaria adesione e quindi non è che si scherza con queste cose quindi fare nostro il male quindi portare la nostra volontà con un atto consapevole sul male è un disastro e se moriamo in queste condizioni senza esserci ritratti da questa condizione andiamo a finire malamente quindi attenzione a capire bene il senso delle cose che sto dicendo però sto parlando del livello profondo quello che filosoficamente si chiama ontologico quello che appartiene al tuo essere in quanto tale a noi il male non ci appartiene se a noi appartenesse il male dovremmo dire sia la natura umana appartenesse il male dovremmo dire che gesù cristo sì forse sarà pure dio ma veramente uomo no perché non ha conosciuto il peccato la madonna addirittura non è una dea ma quindi ma sarà veramente una di noi oppure no la madonna immacolata la madonna dei peccati non ha mai fatti quindi attenzione siamo noi a non essere veramente uomini e donne o sono gesù e maria non essere veramente uomini e donne bella domanda questa ci abbiamo mai pensato quindi attenzione questo per dire subito chi vorrà fare seriamente o l'ha già fatto glielo auguro è meglio per lui un percorso di conversione di santificazione e di liberazione l'attenzione è molta gente pensa che la fede la religione sia qualche cosa che è come dire ti porta un po fuori dal mondo quando è vissuta che uno diventa un pochino fissato no quindi diventa un po bigotto oppure bizzo va messa tutti i giorni sta con la testa tra le nuvole sta sempre a pregare d'accordo nell'immaginario collettivo mi sembra a volte circolare un po quindi o una visione come dire della della fede allora c'è la visione superficiale quindi io sono cattolico e se muore qualcuno vado in chiesa se faccio il venticinquesimo del matrimonio mi vado a far benedire gli anelli dal prete se mi devo sposare oggi sempre meno insomma vabbè che fai non ti sposi in chiesa oggi sempre meno però se muore un familiare che non gli fa il funerario se mi nasce un figlio che non gli fai il battesimo quindi sopravvive ancora una fascia abbastanza larga per la mia esperienza di di parroco almeno a quello che appare poi non ci sono nei cuori delle delle persone di gente che campa così poi c'è qualcun altro che fa della fede come dire una un compartimento stagno cioè è una la vita è una cosa quindi la la vita reale di un essere umano è una cosa ok poi ogni tanto uno apre una finestrella una finestrella con cui si afflasse faccio una finestra e guarda qualcos'altro guarda un po' operaria quindi dice la preghiera entra in chiesa accende la candela e partecipa alla funzione si chiama così nel linguaggio comune a quella bella funzione eccetera eccetera quindi rimane comunque un qualche cosa di sporadico episodico e che non c'è niente a che fare con la vita il discorso figlioli mi cari un sacco di gente pensa che la fede la vita non c'hanno niente a che fare niente ci sono sono due cose completamente astruse cioè la religione è un'altra cosa rispetto alla vita cioè se io voglio essere religioso posso anche essere religioso ma poi la vita che si vive è un'altra cosa noi pensiamo questo la volta scorsa ho citato san giovanni paolo secondo lo ricito anche oggi cioè san giovanni paolo secondo mettendosi dentro tutta l'amplissima tradizione bimillenaria della chiesa affermava che l'uomo ritrova se stesso solo alla luce del verbo fatto carne non trova semplicemente dio trova se stesso se noi faremo questo percorso noi troveremo il nostro vero io preferite il vostro vero se chiamatelo come vi pare d'accordo non è un po facciamo proprio problemi di le terminologie sono sempre come dire limitate ci hanno i suoi pro e i suoi contro ma tu troverai te stesso e sarai contento di trovare te stesso perché se noi l'abbiamo visto la volta scorsa se noi conoscessimo veramente chi siamo noi moriremmo di gioia il nome nuovo che ci è stato dato da nostro signore che chi ci andrà lo scoprirà in paradiso dice qualcuno qualche fonte circolante appare attendibile che se noi lo conoscessimo adesso se a me nostro signore mi dicesse guarda leonardo maria caro mio sacerdote lo sai qual è il nome che io ti ho dato è questo io morirei all'istante di gioia non sarei in grado di sopportare un godimento così grande in questa terra non si muore soltanto di dolore si può morire anche di gioia cioè ci può essere un qualche cosa che è troppo troppo grande non la reggi quindi certamente non arriveremo a tanto però a qualcosa sì e trovando noi stessi noi troveremo anche ogni altro essere umano ricordiamo sempre che il comandamento il grande comandamento si chiama grande perché viene dopo il grandissimo comandamento che è il primo che oggi è abbastanza dimenticato si parla molto del secondo ma del primo poco comunque il grande comandamento che è il secondo e che è simile al primo è amerai il prossimo tuo come te stesso se chi è stata ammessa proprio oggi avrà sentito nel vangelo come io vi ho amati noi non potremo noi non potremo mai né amare noi stessi e nemmeno amare il prossimo come ci ha amato Gesù perché sì dobbiamo tendere a questo no sapete che quando nel vangelo ci sono alcune cose che Gesù come come comandamento siate perfetti come perfetto il padre vostro celeste cosa sta dicendo il signore tendi alla perfezione quindi vai non ti fermare perché sta tranquillo che per quanto santo puoi diventare se c'è sempre qualcos'altro da aggiungere non ci diventi non come la madonna non ci può diventare nessuno quindi se chi ci arriva la madonna nessuno d'accordo quindi continua a camminare non ti accontentare mai non pensare mai di essere arrivato ecco come io vi ho amati non ci arriveremo mai siamo tranquilli eh non voglio contraddire il nostro signore ma il signore sta dicendo guarda che per quanto tu ti possa pensare che ami il prossimo anche che hai imparato ad amare te stesso abbastanza come ti ho amato io non ci sei arrivato quindi vai oltre d'accordo vai oltre perché Gesù vede in noi quello che nessuno di noi può vedere perché Dio vede chi sei tu veramente oggi vedremo se il signore ci aiuta qualche cosa di come è fatto alla luce della fede dell'antropologia e della psicologia chiamiamole filosofiche l'essere umano tradizionalmente parlando in base alla ricostruzione che ognuno di noi potrà poi come dire confrontare con i dati di fatto empirici che conosciamo dalla dalla vita perché dobbiamo noi certamente conoscere qualcosa di noi stessi e di ciò che ci caratterizza capire qualche cosa di che cosa è l'anima che cos'è l'anima quasi impossibile definirlo però qualcosina d'accordo qualcosina e come funzionano le nostre facoltà spirituali cosa sono le nostre passioni eccetera no quindi qualcosina dobbiamo capirlo dobbiamo anche rivedere insieme qualcosina sulla perfezione con cui l'uomo uscì da dio perché noi non soltanto oggi non ci conosciamo ma noi non siamo più noi non siamo quello non siamo come siamo stati pensati perché la fede ci insegna che noi viviamo in uno stato di natura decaduta rovinata non distrutta ma parecchio messa male adesso abbiamo cominciato la catechesi di oggi con la canzone dei miei cari amici di di san che a te la scelta su chi sarai tutto questo patrimonio che noi ascolteremo probabilmente in parte lo conosciamo già forse per qualcuno sarà qualcosa di nuovo dovrà essere oggetto della nostra riflessione confrontarci e dire mi convincono queste cose perché la fede dà delle risposte ma evidentemente sono risposte di fede e la fede è una scelta certamente suscitata provocata da dio ma che chiama in causa la nostra libera volontà la fede è un atto volontario ci voglio credere o non ci voglio credere pascal che radicalizzava molto l'aspetto della volontarietà dell'atto di fede non esitò a dire che la fede è una scommessa scommetto ci voglio credere speriamo che non me so sbagliato tali tranquilli che non ci sulla fede non c'è nessuna possibilità di sbagliarsi si sbaglia chi la fede non ce l'ha sicuramente con tutto il rispetto per chi evidentemente non avendoce la pensa di non sbagliarla di non sbagliarsi scusate allora chi è l'uomo quindi come è fatto l'essere umano io seguirò un pochino la sintesi certamente un pochino adattata che della psicologia e dell'antropologia fece a suo tempo santo ommaso d'aquino perché è stata poi diciamo ripresa da tanti autori spirituali è anche è anche molto molto diffusa in letteratura spirituale quindi chi si legge qualche libro di qualche autore di qualche santo per esempio se uno gli venisse la voglia di leggersi Giovanni della Croce e Santa Teresa Davida se non conosce le cose che sto dicendo oggi non capisce quasi niente quando parlano degli appetiti delle potenze spirituali non capisce niente cosa sono tutte quante queste cose allora chi è l'uomo sappiamo anzitutto che ci sono nella creazione questo è un dato abbastanza come dire abbastanza chiaro dentro un orizzonte di fede d'accordo fuori della fede sono chiare soltanto le cose inferiori ci sono dei gradi di essere differenti allora Dio sappiamo bene che è puro spirito dalla rivelazione cristiana sappiamo che Dio è uno nella natura è trino nelle persone vive in un regno di luce di gloria infinita che non possiamo definire meglio di così perché non possiamo immaginarselo sappiamo che le prime creature che ha creato Dio erano molto simili a Lui nel senso che erano creature puramente spirituali si chiamano i puri spiriti o se si preferisce gli angeli angeli che secondo la tradizione della chiesa è antichissima e accettata sono tra loro suddivisi in nove cori dal più grande al più piccolo i serafini i cherubini i troni le dominazioni le potenze le virtù i principati gli arcangeli e gli angeli questi sono i nove cori angelici sappiamo che ci fu un problema grosso cioè gli angeli furono sottoposti come gli uomini ad una prova di fedeltà a Dio cosa questo sia vedremo se sarà il caso poi di affrontarlo più avanti alcuni superarono la prova altri si ribellarono e si pervertirono in maniera irreversibile capeggiati dal principe degli angeli il cui nome prima di cadere era lucifero il più bello il più grande a quanto pare tra le creature angeliche si rivoltarono e si pervertirono il male attenzione dentro l'orizzonte della fede a questa genesi il male è stato un atto volontario prima che umano angelico con una grande differenza che c'è tra un atto angelico e un atto umano perché questo lo spiega bene San Tommaso purtroppo ci si dovrebbe fare un ciclo a parte queste puntate sono funzionali per andare anche un pochino avanti quindi chi vuole approfondire approfondisca io non so cosa dire no ecco fate un atto di fede un atto un puro spirito lo spiego minimamente quando al primo atto che compie volontario che cosa succede a differenza di noi l'atto che compie lo determina irreversibilmente e in eterno vi siete mai chiesti perché secondo la fede cioè si può pregare per la conversione dei demoni avete mai sentito questa cosa si può pregare per la conversione delle anime dannate in generale noi non sappiamo chi è dannato ma come si prega il Signore ti prego che si convertano le persone che non conoscono il tuo amore no non sappiamo magari chi sono ma si può pregare il Signore signore fai convertire Lucifero fallo tornare buono si può fare questa preghiera si o no si può pregare il Signore fai diventare buone le anime dannate si o no non si possono fare queste preghiere non si possono e non si devono fare perché queste creature non possono più tornare buone perché questo accadesse come dire Dio dovrebbe distruggerle e rifarle ex novo perché una volta che la volontà di un puro spirito si è portata su una su una cosa cattiva non se ne può più distaccare perché la differenza che c'è tra un puro spirito noi questa possiamo capirla come dire molto molto intuitivamente perché noi non siamo puri spiriti noi siamo esseri umani d'accordo e una volta che un puro spirito porta la sua volontà su un oggetto cattivo a differenza di me voi sapete che quando noi facciamo qualcosa di male è vero che spesso e volentieri la campanellina della coscienza un pochino suona ma è anche vero che noi possiamo farci un sacco un sacco possiamo farci un sacco di ragionamenti astrusi di convinzioni che dobbiamo presentare in qualche modo anche quello che mi sembrerebbe male come positivo cioè noi non siamo mai sicuri proprio al 100% che una cosa che percepiamo essere male è realmente male anche perché gli effetti di quel male fatto noi non li vediamo in maniera così immediata ed evidente faccio un esempio tanto per fare se uno dice una bestemmia non è che gli crolla subito il mondo in testa per dire no e magari si comincia a sostificare ho perso il lume della ragione non lo volevo manco di apposta che sarà mai ma è scappata d'accordo altra cosa cioè se uno cioè tu vuoi offendere il Dio ma nessun essere umano ha un'idea adeguata di chi sia Dio perché se uno avesse un'idea adeguata di chi sia Dio ma si farebbe tagliare 500.000 volte la lingua piuttosto che usare minimamente ma non solo bestemmiarlo ma anche pronunciare il suo nome in vano che succede Dio ci dà un comandamento e tu quel comandamento anche se non lo percepisci se c'è la fede dici questo non finito non lo faccio e qui sta anche il merito della 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 fede no o per gli angeli non è così perché l'angelo sto facendo per assurdo un esempio del genere se tutte le bestemmie che dice il diavolo perché le dice il diavolo le bestemmie come lui le dice ben sapendo quello che fa lo sa bene chi è Dio lo sa bene chi è lui lo sa bene che Dio non c'ha niente per cui debba essere bestemmiato non fa niente distordo non fa niente e lo fa lo stesso quindi la malizia pura degli spiriti cattivi è proprio allo stato puro cioè è fare il male ad occhi aperti al 100% non solo vedendolo ma anche rendendosi conto di tutti i macelli che comporterà quella cosa e tutte le conseguenze negative questo è quello che San Tommaso spiega molto diffusamente che sto dicendo in tre parole allora capite una scelta di questo genere determina una tale adesione della volontà a quella cosa perversa che è peggio che se tu attaccassi qualche cosa con il Bostik non si stacca più noi esseri umani invece ci possiamo convertire perché proprio per il fatto che non siamo puri spiriti ma la nostra anima è unita al corpo fino a quando siamo in questo mondo a livello empirico noi possiamo dire ad esempio l'intelletto che è una facoltà spirituale fino a quando io sto qui funziona attraverso l'organo corporeo che si chiama cervello che è materiale oggi ne sanno abbastanza non molto del cervello per essere proprio sinceri abbastanza però quindi questo fatto determina una imperfezione strutturale cioè capite io non è che conosco le cose in maniera intuitiva quindi colgo l'insieme con tutti quanti in essi e connessi no noi conosciamo le cose in maniera sempre deduttiva in maniera raziocinante collegando immagini idee concetti e a fatica e non giungiamo sempre ad una conoscenza chiara quindi che succede se faccio qualcosa di male che lo percepisco essere male se lo percepisco sono colpevole ad averlo fatto ma la mia volontà non si è attaccata a quel male al punto tale da causarne una impossibilità di ritrarmi ecco perché noi non dobbiamo mai giudicare e condannare nessuno perché la creatura apparentemente più malvagia tra gli uomini può convertirsi fino a quando rimane su questa terra questo è uno dei motivi non l'unico per cui Gesù ha detto di non giudicare per nessun motivo allora scusate se mi sto dilungando un pochino dopo aver creato gli angeli viene creato l'uomo anche l'uomo in base al racconto della Genesi qui dovremmo fare una prima scelta di campo di fede o di non fede a prescindere dal significato che evidentemente dietro le immagini del libro della Genesi ci sono delle realtà profonde su cui molti hanno già pensato si sono interrogati ci possono essere una gamma di possibili posizioni possibili accettabili la cosa fondamentale alcune cose la Chiesa le ha insegnate quindi come era lo stato di Adamo prima del peccato originale la teologia cattolica questo lo sa ok per quanto è possibile la caduta dell'uomo è stata provocata da questi spiriti malvagi questo è un altro dato rivelato i quali spiriti malvagi hanno come fine la corruzione del genere umano cioè di trascinare tutte le creature capaci di godere la felicità e la beatitudine che Dio è e dà ai suoi servi fedeli nella loro rovina anzi non hanno nessun altro scopo che questo anche qui se noi sapessimo quanto ci odiano i demoni quanto male ci vogliono ci prenderebbe un colpo come rimarremmo estasiati conoscendo quanto Dio ci ama rimarremmo terrorizzati conoscendo quanto i diavoli ci odiano ma tanto ok l'uomo creato perfetto dopo la caduta ha cominciato un processo di questo è quello che si legge nel libro di involuzione progressiva quindi sapete come si dice come siamo caduti in basso fino ad arrivare a un punto in questi giorni sto rileggendo sto ripassando i testi in ebraico che sono bellissimi sul di lui universale che a un certo punto Dio dice mi pento di aver creato l'uomo è tale e tanta la sua malvagità chissà che era successo come se erano ridotti la razza umana prima del diluvio universale ma ma veramente qualche pensierino vedendo come siamo ridotti anche adesso cioè di come dire di di analogia e somiglianza a me ogni tanto mi viene è detto proprio tra parentesi e chiudiamo e chiudiamo la parentesi no con il diluvio universale cosa succede? c'è un oggi noi diremmo c'è un reset quindi c'è un c'è un azzeramento quindi c'è una ripartenza diciamo così ok viene conservata la parte sana di ogni specie vivente e si riparte e comincia poi dopo la torre di Babbele dopo l'incidente della torre di Babbele la storia della salvezza Abramo arriva a Cristo arriva al tempo della 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 redenzione ok quindi questo è il quadro generale quindi quando noi parleremo dell'uomo dobbiamo vedere primo l'uomo come è in se stesso secondo l'uomo in se stesso come era stato posto da Dio nella condizione di natura integra e terzo come era la condizione di natura decaduta sapendo che noi siamo in questa condizione e la nostra natura decaduta peggiora tanto di più quindi stiamo messi tanto peggio quanto più stiamo messi male con tutto quello che siamo andati vedendo nelle prime puntate il male ricevuto le ferite ricevute il male fatto tutto quello che ci è successo nella nostra esistenza quindi tutto quello che siamo andati vedendo perché è in questa situazione poi che si inserisce quello che fa il Signore con chi lo accoglie cioè torniamo al punto di partenza la fede non è una cosa che facciamo qualche rito religioso ogni tanto vabbè siamo in Italia devo battezzarmi figlio e come no perché non lo battezzo e per carità cioè d'accordo è morto mio padre che faccio non lo porto in chiesa al funerale ma certo cioè che stiamo scherzando insomma per carità meglio che niente questo è qualcosa ma la fede non è questo questo non cambia la vita di di nessuno il nostro Signore è venuto l'abbiamo visto una volta scorsa a salvarci vuol dire che stiamo nei guai e vuol dire che la sua presenza ha una capacità come dire salvatrice Dio è il salvatore dell'uomo attenzione di ogni uomo e di tutto l'uomo della sua psiche della sua sensibilità dei suoi sentimenti della sua storia di tutta di tutta la sua esistenza allora c'è Dio che è puro spirito ci sono puro spirito attenzione puro spirito eterno ed increato e immortale i puri spiriti che Dio ha fatto somigliano a lui ma sono entità creati sono esseri creati anche se sono a un grado di perfezione notevole tra gli altri esseri creati capaci di Dio in forza della parte superiore di se stessi che hanno e che sono le potenze razionali o spirituali come vedremo sono gli esseri umani gli esseri umani che cosa hanno sono esseri spirituali non siamo ma fusi con la materia noi siamo come si dice abbastanza frequentemente in teologia spiriti incarnati un tempo si diceva preferibilmente una unione sostanziale tra anima la nostra parte spirituale e il corpo che è il nostro essere noi siamo fatti così sotto di noi c'è il regno animale d'accordo il regno animale si distingue da noi pur avendo molte cose in comune per il fatto che gli animali non hanno un'anima spirituale creata direttamente da dio capace di lui e dotata delle facoltà superiori gli animali non hanno una libera volontà non hanno una intelligenza se non nelle forme rudimentali grezze proprie degli esseri minori in forza di quella che un tempo chiamavano la parte inferiore dell'anima dove ci sono i sensi interni e i sensi esterni che costituiscono la sensibilità e le potenze dell'irascibile e del concupiscibile che costituiscono la sensualità adesso le vedremo bene tutte queste cose ok sotto gli animali c'è il regno vegetale queste altre cose insomma sono abbastanza abbastanza più accessibili perché rientrano nella nostra esperienza sotto il regno vegetale c'è il mondo della materia come dire la chiamiamo inerte la chimica usa le terminologie di organica e di inorganica ok queste sono le cose che ci stanno allora capiamo che l'uomo questo l'abbiamo già visto è lo chiamavano i padri un microcosmo cioè gli angeli sono superiori a noi ma gli angeli non hanno nulla a che fare diciamo così con il mondo materiale perché loro stanno fuori dentro il mio come dire dentro il grado di essere dell'essere umano come dire Dio ha racchiuso ecco perché la Genesi dice quando ha creato l'uomo è una cosa molto buona noi siamo inferiori agli angeli però infatti il verbo è diventato uomo non è diventato angelo ed è questa a quanto pare la cosa che ha fatto imbestialire Lucifero ed è questa la causa della sua rabbia contro tutti gli esseri umani ma perché è diventato uomo perché in me essere umano in te essere umano in ogni uomo tutti i gradi di essere usciti dal pensiero creativo di Dio sono contenuti perché in me c'è il grado spirituale che c'erano anche gli angeli anche gli angeli hanno un intelletto anche gli angeli hanno una volontà sono liberi come me ma non hanno la materia io però ho anche le facoltà come dire che hanno gli animali ho i sentimenti ho le passioni ho la sensibilità ho i cinque sensi ho le facoltà nutritive io cresco come crescono le piante e dentro di me c'è proprio anche la la materia 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 insomma no anche la materia insomma quella che non è che non è molto molto sensibile no cioè quando mi vado a tagliare i capelli io non parlo da scienziato adesso attenzione qui sto facendo un discorso filosofico antropologico e quindi quando ci tagliamo i capelli noi non sentiamo dolore quando ci tagliamo le unghie non sentiamo dolore no ecco quindi tutti i gradi di essere sono contenuti nell'essere umano quindi il verbo che si è fatto uomo e Don Scoto anche su questo aveva visto meglio di Sant'Ommaso d'Aquino non solo sull'immacolata concezione ma sull'incarnazione anche lui era convintissimo e io anche che il verbo si sarebbe fatto carne anche se l'uomo non avesse peccato anzi soprattutto questo sarebbe stato il piano A e perché perché unendo il microcosmo che è l'uomo alla sua persona divina Dio avrebbe praticamente preso tutto ciò che aveva creato in tutti i gradi e lo avrebbe portato alla massima unione possibile immaginabile con la divinità cioè che essere unito ipostaticamente proprio come nella persona del verbo del figlio di Dio sarebbe stato un tripudio ragazzi veramente da paura spettacolare meraviglioso d'accordo purtroppo abbiamo dovuto mettere in campo il piano B abbiamo nostro signore insomma noi ci esprimiamo queste cose esattamente secondo il nostro modo di 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 parlare no quindi va bene questo deve essere un quadro diciamo così di riferimento chiaro a completare vabbè si completiamolo subito l'opera della redenzione che Gesù è venuto a fare perché noi non non ha trovato l'umanità così perfetta come doveva essere ma l'ha trovata decaduta cosa scrive San Paolo lui ha preso un'umanità attenzione riportata allo stato puro quindi perfetta però attenzione ha preso una carne dice San Paolo simile a quella del peccato e in vista del peccato come vedremo non so se oggi nella prossima puntata l'uomo nello stato di natura integra era non soggetto alla sofferenza non soggetto alla morte Gesù ha sofferto ed è morto certamente ha sofferto non per cause naturali a Gesù non gli veniva l'influenza ha sofferto a causa della cattivera degli altri ma in quanto innocente lui poteva e doveva per certi aspetti sottrarsi non c'era nessun diritto di subire queste cose ma le ha volute subire per noi non avrebbe dovuto morire è morto di morte violenta per la nostra salvezza tutto quello che la Chiesa insegna a proposito dell'assunzione di Maria Santissima comunque si inquadri il momento del passaggio della Madonna anche qui c'è una controversia non ancora come dire districata da provvedimenti del Magisterio che hanno volutamente lasciato aperta la questione quindi è morta non è morta è stato un piccolo sonno statico è stata direttamente portata in cielo senza passare per la dormizione ci sono varie posizioni in ogni caso la Madonna non ha subito la corruzione quindi non ha vissuto la morte così come la vivremo tutti noi questo sia chiaro appunto perché anche la Madonna è ritornata è venuta sulla terra ed è stata creata in uno stato di natura integra Gesù è venuto a compiere la redenzione che significa la redenzione la redenzione significa ridarci la possibilità di percorrere un cammino che ci liberi gradualmente da tutto quanto da larga parte del male di cui siamo circondati non però da tutte le conseguenze di esso questo Dio non l'ha fatto la morte le prove le malattie le sofferenze che caratterizzano la vita terrena rimangono quando ci sarà la liberazione anche da queste cose quando la redenzione sarà perfettamente compiuta nel genere umano quando con la parusia di nostro Signore e con la risurrezione della carne questo è quello che la fede questo è quello che la Chiesa crede e che la fede insegna anche qui immaginate tutte quante le informazioni che sono arrivate veramente tante che effetto ti fanno che cosa pensiamo di queste cose i martiri sono morti per queste cose sono morti di morte violenta pensiamo che sono favole pensiamo che sono leggende pensiamo che sono folle pensiamo che sono storie pensiamo come pensano i molti ma pensiamo anche da ora che sto dicendo tante cose le ho dette anche ai miei fedeli spero che si comprenda bene il senso un momento come quello che l'Italia ha vissuto l'Italia non soltanto l'Italia il mondo sta vivendo con questa ancora perdurante pandemia quindi dove lo spauracchio della morte circola insomma con tutte queste cose qui tutto quello che conosciamo benissimo no io mi chiedo entrano in causa tutte quante le cose di cui abbiamo parlato questa sera o no e secondo me sì cioè se uno affronta una prova del genere con questo bagaglio di fede non è che fa l'incosciente o lo screanzato ma la vive diversamente figlioli miei cari cioè per noi cristiani lo abbiamo visto in un altro ciclo di catechesi che sto facendo sulla sana dottrina cattolica abbiamo visto il quinto comandamento la vita fisica la vita fisica è biologica è sacra d'accordo ed è inviolabile è Dio che decide quando comincia una vita e quando finisce una vita non l'uomo d'accordo per cui aborti eutanasie non si fanno d'accordo si approfondisca poi in quella serie che il catechismo della chiesa cattolica è meraviglioso però attenzione la vita sulla terra per noi non è un assoluto non è un assoluto i santi per carità si offrivano al signore dicendo signore voglio farmi tutto il purgatorio sulla terra voglio servirti voglio darti gloria quanto più possibile ma se morissi stasera supposto che abbia già riparato tutti i peccati che devo riparare che ti ho dato tutto l'olio che devo darti ma io ci metterei 40 firme che pensiamo noi di questo che pensiamo se sorella morte non facciamo gesti apotropaici ma dovesse bussare questa notte alla porta della nostra casa sto pensiero ti agita ti turba e perché eventualmente cioè la fede è una risorsa impressionante straordinaria cioè anche gli eroi tra virgolette della società civile hanno fatto hanno fatto tutto quello che hanno fatto perché ci credevano anche le grandi nefandezze del corso nel corso della storia anche le brutte cose che sono state fatte quanta gente ha creduto sinceramente dandogli credito nelle ideologie che hanno dato luogo agli opposti regimi totalitari pensavano che quella fosse la soluzione dei problemi di tutta quanta l'umana società in un modo o in un altro quelli ci hanno ci hanno creduto ci hanno sono sbagliati certamente ma ci hanno creduto e in forza quello che hanno creduto ma quanti sacrifici hanno fatto ma che cosa sono stati capaci di fare cioè le cose in cui crediamo sono la molla della nostra esistenza sono la vita della nostra esistenza se tu se tu ci credi veramente ma tu sei pronto a fare qualunque cosa per le cose in cui credi se ci credi veramente ripeto noi abbiamo fiumi di martiri io consiglio sempre la lettura del martirologio io lo leggo il martirologio quando vedo certe cose dico signore mio tienami la mano sulla testa io non sarei mica buono a passare tutte quante le tormenti atroci che hanno vissuto alcuni nostri padri e madri nella fede ma delle cose allucinanti amici miei pazzesche cioè io delle volte quando leggo sapete io il martirologio il penultimo di quelli che è stato approvato quello del 62 dove si è mantenuto uno stile abbastanza realistico nel senso come era un pochino più antico no? nel senso che non troppo però alcuni dettagli di alcuni martiri sono descritti nell'ultimo uscito sono stati un pochino sfumati diciamo un po' che se mi si passa una battuta il martirologio del 62 somiglia alla passione di Mel Gibson d'accordo l'ultimo martirologio somiglia al Gesù di Nazareth di Zeffirelli un pochino più cioè quindi il problema però è che con tutto il rispetto la passione di nostro Signore Gesù Cristo rispetto a quello che ha fatto vedere Mel Gibson è stata molto peggio qualcuno si è scandalizzato si è strappato le vesti ha detto ma che è sta roba qui sta carneficina sta mattanza ma le cose sono andate molto peggio io ho letto tantissimi storie di sante e mistici e mistiche che hanno visto la passione ma la passione di Mel Gibson è una rappresentazione non molto lontana dal verosimile ma è molto peggio io leggendo il martirologio lo dico Signore mio forse i martiri sicuramente tu combatterai con loro e per loro chiederai una forza straordinaria io se soltanto ci penso mi sento male ti voglio tanto bene credo di chiederci tante cose ma ce la farei io a fare questi eroismi a soffrire questi tormenti per te per la fede vorrei tanto potercela fare ma mi sono terrorizzato solo al pensiero ve lo confesso proprio candidissimamente che sono delle cose atroci ma questi l'hanno fatto è la forza della fede e la forza dell'amore allora capiamo quanto è importante no allora veniamo adesso l'uomo l'uomo alcune cose le sappiamo già abbiamo visto nella puntata precedente la cosa veramente spettacolare il gioiello che c'è in noi la perla preziosa quella di cui va in cerca nostro signore cos'è la perla preziosa sei tu la perla preziosa sono io e lui ha dato tutto l'abbiamo visto la volta scorsa lui darebbe tutto anche per una sola perla preziosa è un'anima un'anima l'anima è quella parte di noi spirituale incorporea immateriale che viene da Dio direttamente da Lui non viene da papà e da mamma se non ci avessimo questa noi saremmo né più né meno che animali d'accordo? ecco questa gemma preziosissima questa gemma preziosissima capace di godere di Dio stesso è dotata insegna la teologia e la tradizione cattolica di alcune facoltà o potenze spirituali ok che sono l'intelletto la la capacità di comprendere la capacità di formulare concetti di penetrare dentro l'essenza delle cose è grazie all'intelletto che noi parliamo se non ci avessimo l'intelletto non parleremo poi c'è la cosa più preziosa che noi abbiamo e che è quella da cui tutto dipende lei stessa dipende dall'intelletto perché lei si muove generalmente in base alle conoscenze d'accordo che l'intelletto gli dà è la volontà la volontà è una facoltà spirituale per mezzo della quale noi prendiamo delle decisioni facciamo una cosa piuttosto che un'altra aiutati anche da un'altra risorsa che è spirituale ma questa è condivisa anche se in maniera proporzionata anche dalle forme minore di essere e lo vediamo che è la memoria se tu hai un cagnolino gli fai una carezza quello se lo ricorda per tutta la vita se lo ricorda d'accordo quindi la memoria infatti i classici la distinguevano memoria sensitiva e memoria spirituale non entriamo troppo in queste cose qui l'insieme di queste tre facoltà d'accordo si chiamano appunto facoltà perché l'anima non si identifica con esse io non sono la mia intelligenza io non sono la mia volontà io non sono la mia memoria ma la mia anima opera vive si esprime compie gli atti pensa riflette si relaziona fondamentalmente principalmente attraverso queste tre facoltà regine d'accordo queste tre facoltà soprattutto l'unione dell'intelletto con la volontà ci dà quel dono meraviglioso e che costituisce il distintivo dei figli di Dio figli di Dio in senso ampio non in senso stretto non di battezzati così erano gli angeli così siamo noi molta gente si chiede ma perché Dio ha permesso agli angeli e agli uomini di peccare la risposta che possiamo darci in questo mondo è una sola una ed è la risposta a mio avviso se ce ne saranno altre nell'altro mondo benissimo allora come dire se Dio avesse voluto cioè se Dio vuole creare qualcuno che è sua immagine e somiglianza Dio è l'essere libero per antonomasia Dio non è costretto e necessitato da niente e da nessuno ecco perché la custodia della libertà mettetemi insomma è un valore a mio avviso primordiale d'accordo perché è un bene che Dio stesso garantisce tutela la libertà il rischio della libertà sappiamo benissimo è stata la dannazione eterna per Lucifero e gli amici suoi e della possibilità della dannazione per gli esseri umani ma Dio non è possibile cioè allora o Dio non creava qualcuno a immagine e somiglianza sua cioè faceva tutti quanti animali gli animali non sono realmente liberi non hanno una reale libertà gli animali agiscono in base agli istinti noi no noi possiamo essere dominati dagli istinti e questa è una delle condizioni che dipendono dal disordine in cui siamo piombati ma noi possiamo anche dominarli gli istinti per chi da segue do appuntamento alla prossima catechesi del ciclo la sana dottrina cattolica oggi comincerà a parlare del sesto comandamento gli istinti ci dominano o gli istinti li dominiamo li possiamo dominare noi o no possiamo noi in quanto esseri umani accettare che la nostra vita sia dominata dagli istinti punto interrogativo anche quando questi portassero a degradazioni di ogni sorta punto interrogativo è una cosa bella quindi noi siamo liberi perché siamo immagini di dio però qual è il problema solo dio sa esercitare la libertà in maniera perfetta senza errore perché dio è dio ogni essere creato compresi gli angeli per quanto perfetti sono è un essere limitato per cui non è strutturalmente perfettissimo deve rimanere legato e collegato con la fonte della perfezione perché nell'esercizio della sua libertà non si sbagli e sia la prova degli angeli che la prova degli uomini qualunque essa sia stata ci sono tante ipotesi sia sull'una che sull'altra io so benissimo quelle che mi sembrano verosimili ne ho anche parlato e forse ne riparleremo sia per gli angeli che per gli uomini ma il minimo comune denominatore è tu devi scegliere di rimanere con me puoi non farlo non farlo è la fine ma se noi non potessimo farlo non saremmo realmente liberi e se non fossimo liberi non saremmo immagine di dio e se non fossimo immagine di dio noi non saremmo capaci di goderlo i gattini che ho dentro casa sono tanto belli ma tra 15 anni 20 gli auguro di campare il più lungo possibile la loro vita cesserà la loro anima non vedrà dio c'è molta gente che si chiede ma in paradiso ci saranno gli animali posso dire la mia io sono in paradiso gli animali ci saranno certamente ma non perché loro godono di dio ma perché sono perfezioni create dove c'è una scintilla di quello che dio ha fatto e che saranno godibili e fruibili come gloria accidentale da tutti probabilmente se ci saranno loro godranno sicuramente di più staranno meglio rispetto a questa valle di lacrime ma godere di dio e di quello che lui è gli animali non lo possono non lo possono questo è proprio sicuro questo qui loro non lo possono godere come lo potremmo godere noi perché perché non sono immagine e somiglianza di dio e non essendo immagine e somiglianza di dio non hanno la libertà non hanno la possibilità i miei gatti i miei dico miei io li lascio molto molto liberi i nostri animali sono più obbedienti di noi loro obbediscono a dio sempre tutto quello che noi vediamo intorno a noi il sole la luna le stelle il mare i pesci le piante sono tutti quanti obbedientissimi all'altissimo tutti quanti nessuno sgarra cioè i disobbedienti siamo noi la vergogna della creazione siamo noi perché siamo gli unici che possiamo disobbedire però bisogna anche dire spezzare questa lancia a nostro favore perché tutti gli altri sono programmati sono come un computer se mi si passa questa espressione non possono distaccarsi un computer non può mica distaccarsi dal software per cui è stato progettato un computer è quello fa quello che gli dico io appunto e basta se lo so usare siete d'accordo se no comunque sia è fatto così noi no allora questa parte è più bella ci fermiamo qui oggi dopo andiamo a fare un'altra puntata per questa cosa qui però io ritengo che queste cose siano importantissime perché noi concludo cioè stiamo facendo un percorso che ci deve che ci deve portare a vivere veramente e soprattutto a fare delle scelte quindi io con con chi sono io per Dio la volta scorsa e chi sono io in me capite che significa se la parte più nobile di me è l'intelletto e se io sono una persona libera io non diventerò veramente uomo se non imparo pur punto primo a far funzionare bene l'intelletto che Dio mi ha dato gli uomini non lo fanno funzionare bene perdonatemi far funzionare bene l'intelletto non significa di prendere soltanto 4 lauree e diventare grandi dottori queste sono cose certamente fantastiche ma l'intelletto deve funzionare bene anche su altre questioni per esempio sulle questioni etiche per esempio sulle questioni esistenziali per esempio sulla conoscenza di Dio sull'intellezione delle verità della fede capite? se questa è la parte più importante di me io dovrò imparare a fare i conti seri a prendermi di responsabilità a ricordare che io sono una persona libera la libertà la devo difendere ma devo anche imparare ad esercitarla in maniera adeguata ad esercitarla bene se ho imparato fin dai tempi dei miei progenitori che se io non rimango stretto con il Signore io me sbaglio e combino guai allora io capirò anche il senso delle parole di Gesù quando va a dire se rimanete fedele nella mia parola sarete davvero miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi farà liberi che significa questa cosa ma io non sono già libero cioè io non conosco la verità e faccio come mi pare attenzione fare come ti pare è una manifestazione della libertà che si chiama libero arbitrio ma ti puoi anche andare a fare male facendo questo essere liberi significa imparare ad usare sempre e in bene la libertà che Dio ti ha dato significa scriverti una vita felice questa è un'altra cosa continueremo la prossima volta spero di ricordarmi non me lo segno il punto in cui sono arrivati in modo tale che posso riprendere il discorso e continuarlo dalla prossima puntata grazie per chiunque ha voluto seguire alla prossima Dio vi benedica e la Madonna vi protegga e a presto